vabbè frodo 1990 mi ha ucciso con una vecchia frodo 1900 ed i garruta tranquillo dietro la porta sta spero sia da su senza armi senza armi correte 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 senza armi senza armi senza armi nell'angolo a destra appena entrato nella porta ma dai vabbè lo ha preso e lo prende e lo ho preso pieno ma perchè sti cazzo tipo poi uno shot oh l'ho ammazzato mi era rimasto un hp porco d'inchi che schifo zio me l'ho ammazzato a puni vabbè